Chi l'avrebbe mai detto che saremmo usciti dall'aco tre punticini, tre pere fatte, con un ottimo Venezia tra l'altro Venezia che quest'anno ne ha impensierite parecchie di squadre per cui non è che dici sei vai a giocare a Venezia e ta passeggi No, quindi tre punti che valgono tanto, tra l'altro perdonate il ritardo oggi ma è stata una giornata abbastanza surreale Perché talmente tante cazzate da sentire singoli che mi va a dire pesa la colica, vabbè, sempre sotto Natale per le cose meravigliose Non si sa bene perché nella vita quotidiana delle persone si concitano le cose più problematiche sotto Natale, speriamo bene Comunque, parentesi personali a parte, partita che ho visto primo tempo male, secondo tempo bene, per fortuna me lo so goduto Però diciamo che ho visto il gol meraviglioso di Pedro su tre pollici, no ma neanche, un cellulare e quanti pollici sono? Due pollici, non lo so, con le proporzioni non sono proprio... Comunque, dici Pedro, l'hanno presa a zero, ci hanno preso i fondelli da senza sinistra, sembrava che avessimo comprato uno Io stesso, diciamo, vai, stavamo compato Pedro, ma chi? Pedro, Pedro, ormai, Pedro, eh Vado po', vado po', ogni volta, cioè, è tipo il barlume di speranza di una squadra allo sbando E... Ah, quindi che vuoi dire? Cioè, stasera, stasera, Pedro sembrava tornato quello di dieci anni fa Per... freschezza, per energia, per imprevedibilità Destro, sinistro, e se smarca quello, i cambi di passo, i schiatti Contro una marea di ragazzi più o molto più giovani di lui Hai capito, Pedro? L'immortacci sua E... veramente tanta tanta roba Tanta tanta roba, io sono mai così felice di essermi sbagliato su qualcuno nella mia vita Perché... avevo bollato con uno che ormai era andato Invece, invece... Invece stava spigli Pedrito Quindi, ma al di là di Pedro Partita coralmente accettabile, oggi Giocata bene Che io vuoi dire? Hanno veramente, a parte Felipe Anderson, oggi Che era un pochino fuori dal gioco, ma Sia per dei meriti suoi, ma anche per meriti del Venezia, va detto Partita completamente diversa da quella che c'è stata con... Con Genoa Per cui aveva molti meno spazi E si è visto Però... anche lì Ok Però lui è uno che gli spazi si deve creare E che con quel talento Se li può creare Ecco Mettiamola così Non è... quindi Da... dal Pipe... Ci aspettiamo di più? Ci aspettiamo di più Comunque Senza Immobile era dura Sono due partite che siamo un po' orfani del nostro capitano Bomber, trascinatore, eccetera Però due partite in cui siamo sopravvissuti E non era semplice Per quanto gli avversari non siano Il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco Però La Lazio è specializzata in Perdita di punti in partite scomode E quella con Venezia lo è Perché con Venezia hanno faticato tutti E tanti ci hanno pure perso Per cui Non... non... Ripeto Non riesco a... Con Geno è stato diverso Geno è una squadra decisamente più in difficoltà Venezia è una squadra molto più quadrata in questo momento Che si è visto pure stasera Lasciate perdere il risultato Che per certi versi è un po' forbiante Per quella che è stata la partita Perché il 3-1 non rispecchia una partita in cui la Lazio ha faticato Ha concesso poco ma ha faticato tanto a entrare Quindi Insomma Io... io... ripeto Ieri poi parlando pure con Giovanni Eravamo entrambi molto preoccupati Della partita di oggi E... non ci aspettavamo di uscire da lì con tre punti Con uno se ci dice va bene Però... eh... Ogni tanto la botta di fortuna Pure a noi quindi va bene così Ma... Complessivamente devo dire Allora Qualche riflessione sparsa Che ci tengo a fare Radu io l'ho sempre Stracriticato Sono uno dei suoi più grandi detrattori Perché Negli anni che lui ha passato la Lazio So più le volte che l'ho maledetto Con amore ovviamente Perché uno come lui non puoi non amarlo Da un punto di vista umano Ma... Più le volte che l'ho maledetto Che le volte che l'ho elogiato Ok? Sono uno sempre molto ipercritico con Radu Però stasera ha dato prova di grande professionismo Perché è entrato dopo tante giornate Tanto tempo in cui è stato ai margini del progetto Ed è entrato con personalità Voglia Determinazione Io mi auguro che lui si riprenda Quanto meno il posto di prima riserva De sto blocco difensivo Perché che gli passi davanti Patrick Con tutto il bene per Gabbarron Però... Ecco... Non ce la posso fa Non ce la posso fa Quindi va bene Così Ottimo lui Ci tengo a dire anche Due paroline su Luiz Alberto Anzi Mi l'incomicio Ah stai rotta con Sarria Ah non lo vogliono più Lo cacciano via Adesso a gennaio Ma che cazzo Ma... Non mi è sembrata la prestazione Di un uomo Proprio mentalmente lontano Dal progetto Minimamente Così come non mi è sembrata L'esultanza di un uomo Lontano dal progetto Quella di Luiz Alberto Che Per quanto al giorno d'oggi Indicare il simbolo Voglia dire Tutto e niente Però su quei gesti Tu vai sotto Una curva Di 2500 Grandissimi Che sono andati fino lì A vedersi la partita A fare quel gesto A distanza di Concretamente 10 giorni dal giorno In cui potresti firmare Per un'altra squadra Non credo che sia così Così No? Così E sarebbe troppo Sarebbe troppo Per chiunque Un gesto del genere Per cui voglio sperare Che lui Sia accettato di buon grado E voglio sperare che Nella mente di Sarri Tutto questo sia Parte di un grande progetto Per reintegrarlo Per stimolarlo Allora Partiamo dal presupposto Che io sono una di quelle persone Che crede che Si arrivano a certe età O resti coglione O a qualcosa L'esperienza ti serve Sarri da quello che è Da quelli che sono i fatti Ha dimostrato Di rientrare Nella seconda categoria Quindi Io voglio credere Che un uomo Della sua esperienza Sappia Gestire Un ragazzo Come Luisa Alberto Sappia Come fare Per tirare fuori Il meglio Di quel ragazzo E in parte Ci sta riuscendo Perché So due volte Che lo Che lo usa Col contagocce E la prima volta Ti fa l'assist La seconda Ti fa il gol Ma dopo 15 minuti Di altissima intensità Perché oggi Luisa Alberto Ha giocato Alla stragrande È entrato Concentrato Ha contribuito Tantissimo Al palleggio E ha dato sicurezza A un centrocampo Che solitamente Non ne ha E che ne soffre Tanto di questa mancanza Di personalità Di stabilità Di solidità Di sicurezza Ok Quindi per me È stato Un ingresso Assolutamente positivo Migliore Dei precedenti Ingressi Poi il gol Tra l'altro bellissimo Ma resta comunque La prestazione Di quel frangente In cui lui ha giocato Che mi fa dire Oh ma non è che Sarri effettivamente Ci capisce più Di tutti quanti noi E giustamente Direi perché Se no Che c'è staffa In quel ruolo Quindi io sono assolutamente Convinto Sempre il primo Del carrozzone Pro Sarri Io Insomma Sapete come la penso Da sto punto di vista Non mi metterò mai A contestare Mai Quanto meno Non per adesso Non fin quando Non ci saranno Elementi oggettivi Per farlo Ma non so Le sconfitte Di inizio campionato Perché Ultimamente Stavo sentendo Una Non so Non so bene Di quando fosse Ma un'intervista Di Klopp Dove praticamente Raccontava il fatto Che lui quando Ha firmato Per il Liverpool Ha preteso In qualche modo Che gli fosse Concesso del tempo Mi pare due stagioni Prima di Eventualmente Essere esonerato Perché lui voleva Avere due anni Per poter lavorare Sul gruppo Prima di essere messi In discussione Ecco Se sa Il Klopp Com'è arrivato A Liverpool Sì Voi mi direte Vabbè ma Klopp Gli hanno comprato Questo Quell'arte Hanno speso 800 milioni Di mercato Benissimo Ma resta comunque Il fatto Che era parte Di un progetto A lungo termine Io voglio sperare Che si dia Quel tempo Anche a Sarri E che La Lazio In quanto Non solo società Che lo ha già fatto Ma in quanto Tifosi Popolo Bianco Celeste Comprenda L'importanza di concedere A un allenatore Che ha sicuramente Dei metodi diversi Da quelli di Inzaghi Il tempo per lavorare Come si deve Perché Come in tutte le cose C'è chi lavora in un modo C'è chi lavora in un altro Magari il gioco di Inzaghi Era più immediato Nel palesarsi Come talto Sta succedendo all'Inter E ne parleremo Adesso in questa pausa Invernale Perché sta ottenendo Grandi risultati Perché Inzaghi Ha un certo modo di lavorare E una certa filosofia Sportiva Sarri Ne ha una un po' più All'antica Se vogliamo Che magari richiede più tempo Ma io sono convinto Che potremo Eventualmente raccogliere Buoni risultati Col tempo Migliori di adesso Sicuramente Quando gli fosse concesso Il tempo di lavorare Con calma Quindi mi auguro Che tutti quanti Saremmo quantomeno Il più possibile Uniti In questo senso Per concedergli Questo tempo E farlo lavorare Con calma Ciò detto Ragazzi miei Basic Benino Anche se mi aspetto Un po' di più Milinkovic Benino Anche se mi aspetto Un po' di più Gli altri Tutti devo dire Molto bene Non c'ho Zaccani Sta crescendo Oggi magari Un po' meno Incisivo Ma si vede comunque Che c'è Qualcosa Sotto A quella braccia Che si sta accendendo Quindi Dai Insomma Adesso Meno male Che c'è sta pausa Per una volta Tocca dirlo In modo che il 6 Con l'Empoli Si potrà tornare Con pieno organico Come auguro Con Con tutti gli effettivi Con Immobile Soprattutto Per avviarci A un nuovo A un giro di Boa Adesso Che si supera Con una nuova fase Di campionato Diversa Perché insomma Sto giro di ritorno Dovrà essere interpretato In maniera un pochino Più No Rispetto al primo Per cui ragazzi miei Io vi mando un abbraccio Sempre a forza Lazio Noi ci sentiremo Credo sicuramente Prima di Natale Quindi vi farò gli auguri Quando sarà E niente Ragazzi miei Un grande abbraccio Noi ci vediamo alla prossima Grazie a tutti Noi ci vediamo alla prossima を